ed eccoci qua con il nostro piccolo balsamo quotidiano alleggeriamo dai 29 aprile ciao da mauro al manacoroscopo oggi è santa caterina da siena la patrona principale d'italia è nato oggi andrea gassi l'ex tenista statunitense 29 aprile 1970 poi c'è lui luca laurenti personaggio televisivo comico cantante attore fa un po di tutto 29 aprile del 1963 la frase del giorno riguarda proprio questa fine ormai di aprile aprile fa i fiori e maggio ne ha gli onori e adesso i 12 segni l'oroscopo di oggi ariete la giornata appare serena fondamentale sarà il vostro atteggiamento nei confronti di una persona che incontrerete per la prima volta e che vi farà uno strano effetto moderatevi a tavola specie nel bere toro la cattiveria di un amico vi sembrerà ingiustificata e avrete ragione a farglielo notare una serata romantica con chi amate vi rilasserà e saprà ridonarvi la serenità di cui avete bisogno gemelli lasciate che il vostro cervello riposi almeno oggi e domani prendetevi un weekend di pausa e riflessione ma non abusate della vostra materia grigia o finirete con l'esaurirvi prima del tempo litigi col partner cancro buone prospettive per chi cerca l'anima gemella di fare oggi o al più tardi stasera un incontro forse decisivo in famiglia usate la diplomazia risulterà la carta vincente leone sarete al centro dell'attenzione e stranamente la cosa non vi procurerà il solito piacere attenti a chi dimostra condiscendenza e nasconde in realtà invidia e pregiudizio stasera ricercate i vecchi amici più fedeli vergine approfitterete della giornata piuttosto tranquilla per dedicarvi al disbrigo di tante piccole faccende rimaste in sospeso se stare soli vi fa bene adottate la stessa condotta anche per la serata bilancia venere è vostra alleata chi cerca l'anima gemella potrà fare affidamento su un fascino strepitoso chi è già in coppia consoliderà l'unione unico neo una piccola preoccupazione di lavoro che vi assilerà un po' scorpione a volte saper tacere anche di fronte ad una palese ingiustizia può risultare la migliore delle strategie con un familiare ritroverete il piacere di una sana chiacchierata stasera notte di follie sagittario il senso di solitudine che vi trascinerete anche per tutto il weekend non potrà certo contribuire a sollevarvi il morale piuttosto mal ridotto cercate consolazione incontrando una simpatica comitiva capricorno quando tutto sembrava potersi finalmente realizzare ci si metterà uno spiacevole inconveniente a guastare i vostri sogni sappiate dimostrare la necessaria pazienza stesso consiglio valido per la serata acquario non ci sono grosse novità all'orizzonte ma voi gavanizzati dall'idea del fine settimana saprete lo stesso trovare il meglio in ogni situazione anche chi vi è vicino ne risentirà positivamente pesci lontano dai problemi del quotidiano ritroverete la forma migliore dedicatevi ai vostri hobbies preferiti senza trascurare qualche piccolo impegno preso con amici o familiari serata rilassante dite no alle ore piccole